Una panchina rossa per tanti fiori recisi da mani crudeli. Una panchina rossa per ritrovare il senso di una pianta condivisa. Bitonto ha un nuovo dono da conservare gelosamente. Una panchina rossa a forma di fiocco dove spicca la scritta donne. Non a caso perché rivolta alle tanti che subiscono o hanno subito violenze e di qualunque genere. Fortemente voluto dalla FIDAPA e dall'assessorato comunale alle pari opportunità è fondamentale perché ci ricorda che la violenza di genere è un grosso problema ancora risolto. E non è un caso che la panchina sia stata installata in piena periferia. Anche le periferie hanno bisogno di essere tutelate e un significato forte quello che vogliamo dare. In centro sarebbe stato troppo semplice e invece ripartire dalle periferie significa essere vicino anche a tutta quella popolazione che magari la violenza la intende in maniera diversa e delle volte cerca anche di giustificarla. Proprio perché è un tema che non smette di preoccupare di pancine rosse a quanto pare ne vedremo tante. Questo è solamente l'inizio perché noi intendiamo proseguire questo tipo di attività e le posizioni delle nuove, l'installazione delle nuove panchine su gran parte del nostro territorio. Sicuramente le prossime interesseranno le frazioni per poi pian piano andare anche nelle altre zone. Il sindaco Michele Abaticchio, invece, ha rivolto un pensiero a Maria Grazia Cutrone, vittima di femminicidio il 4 novembre 2016 e che abitava a pochi passi da quella panchina. Quel fiocco rosso che adesso domina vi ha togliati e anche per lei, soprattutto per lei.